Matteo, Matteo, stiamo arrivando Buonasera, 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 dove si va? Un imprecisato punto della costa italiana Dunque, non so se riesci a vedere Ti fai una cottaotta a te Salve Buonasera Big fish 2 Te lo dico una volta per sempre Loro mai state al mare Però siamo attrezzati bene Io a casa Fammi finire l'FJ perché io se no Non è buono? Sì, voglio una mano Pesso Cardiacattura Attenzione Grande cardi Grande cardi Succarello in the snow Come dice Grande cardi Grande cardi Fermo lì Guarda lì non è Bello Metti lì come fa Monti Bello Vedi, coda b forcuta Porca puttana Questi sono quei cosi Tocca lì Dai Sì, inizia a sentirlo Sì Non fa nulla No Camera Attenzione Eh no Bello Dio buono Ehino Succarello 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 non è stiamo catturando stiamo per questo è porco pane e se no qui che cazzo stiamo a giocare se no davvero oh dio buono e forza eh grande steve grande di abono quanti ne hai presi? due? tutto va in via signori signori dove l'ha preso questo bellissimo pesce è bello non ci sa di nulla? ciao grazie sono le? sono le? che sono le? dove sono? due e dodici buono valore? di cui si? di cui si? di cui si? anche lui deve stare orgnata serata questa serata di pesca? di pesca sportiva con stefano forzi e quanti euro? bianchi bruscoli bianchi bruscoli? quant'è? stiamo cresci succarelli e via modo giusto per onorare il pesce che abbiamo preso ecco lì cercheremo di fare c'è poco tempo pochissimo tempo ma ora non mi disturbate dopo che erai non mi disturbate devo lavorare devo lavorare facci vedere che in più le non so io roba seria esagerato aspettavano non è l'ucca perché c'è il miracle blend con la sfera di controllo vedi? con la sfera di controllo non è un programma vedi come è perfettamente bilanciato vedi? maschio turgido turgido beviamo turgido con il super aglio non ti è piaciuto? no no per nulla buono eh? il succarello è roba seria il succarello è roba seria puoi vedere lo che faccio queste belle spazzolate non ci sei pensato ci sei fatto a farlo vedere questo era succarello prima marinato nell'olio e prezzemolo sale affumicato poi cipollina ravanello e yogurt greco molto cremoso molto buono amalgamato si è dato sotto per il punto si si a proprio conferma non voglio dire nulla perché dovete osservare questa cosa aspettavano vi faccio anche da vicino pass landing pass landing bella roba attacco in diretta attenzione l'attacco in diretta attenzione l'attacco in diretta è attenzione è attenzione è attenzione è attenzione è bello eh eccoci sei eh ci sei quasi 75 bello eh e e e e eccolo dai forza bella roba collegamento mentale con l'esca va bene eh eccolo uuuu fai fai nooo questo era grosso Ferrari questo era grosso questo era grosso questo era grosso maiala questo è il big one il nostro che i i i i i i i i Grazie a tutti